Allora, ok, in questo LDS vi stiamo aspettando di risolvere un quadro, esattamente sulla S-E, quindi abbiamo sotto controllo tutto questo apparato, che è finato da tante montanine, che in termine, diciamo così, le chiamiamo montanine, invece sono dei letti. Adesso spieghiamo tutto, e dobbiamo cambiare le parti. Questi steli sono ridottanti, sono uguali ai denti. Ecco qui che c'è un altro apparato possibile, questa non c'è bisogno di me, piacendo qualche lampadina, naturalmente, e intanto ci si chiama un letto in termine a denti. Quindi, buona. Questi qui poi, sono quei vestimenti di manutenzione, dove si fanno tutti i vari controlli, per quanto riguarda i nostri apparati. Quindi, diciamo che ci permette di collaborare con le lavoratori del corpo. Mentre, su questa scrivania, abbiamo, ecco, adesso, l'operatore ci firma, abbiamo tutto quello che ci serve, la cosiddetta microfiche. Ecco, adesso analizziamo uno, prego l'operatore di avvicinarsi, e, diciamo, ovviamente, in cosa consiste il nostro lavoro. Dunque, qui determiniamo tutti, di allontazione, dei vari, in cui, per essere la rovescia, e lo spunto, è, e, diciamo, cercando di individuare, ecco, adesso, ok, e fermiamo la posizione dei banchi di memoria. Fermiamo l'eparto, andiamo nella sala mischi, e così, esaminiamo le memorie. E qui, mi cura mentre capino. Dunque, questa è la sala mischi, e queste sono le memorie di massa che costituentano i banchi, dove abbiamo, diciamo, la registrazione dei dati sull'acqua. Mentre queste qui sono le memorie di massa più grandi, di all'acqua, di isola, con dei fatti rischi dove, su cui vengono memorizzati tutti i dati. E ne abbiamo 4, più 4, di cui 2 cere di onda, 2 sistema, due servizi e due di riservo. Mentre, ecco qui, questa è la gestione di queste camere, diciamo, la gestione di questi apparati, di questi apparecchiati, che si chiama GSTST. Perfetto, vedo che in questa passeggiata, diciamo, nella tecnologia, ormai sperata, abbiamo dei fatti rischi di scorta, in cui noi ci imponiamo i fatti rischi, che li abbiamo utilizzati. Qui c'è la vera propria serie, dove noi stiamo a coordinarsi. e poi non è tanto, ed è il sistema Siemens CX-4002, ed è un semielaboratore, che fa delle comunicazioni, delle trasmissioni, a 3.400 Vita al secondo. Andiamo oltre, e ci avviciniamo nella sala di controllo. Si chiama GAPAPL, abbiamo tutto il controllo dello stato di esercizio di queste apparecchiati. Quindi, questo qui è il posto di controllo, dove abbiamo le varie lampade, e queste sono le proprie lampade, che giustano lo stato di assistito. Mentre queste, poi, sono gli scriventi di servizio, su cui noi eseguiamo tutti i comandi, per collocare il tuo assistito. E con questo, cari ragazzi, ho concluso. Abbiamo uno splendido acquario, su cui noi, diciamo che, ogni tanto ci rilassiamo, perché il lavoro è notevole.